Dunque, oggi ho la maglietta di Jor-El. Ho visto il video di Master, il Master ormai sta spanticando, sta letteralmente vacillando, poi c'è delle novità fantastiche, non so se... vengo da Krypton, attenzione, la ventrazia è larga come un Ula-Hop, un po' come quello di Scarogi, perché il GH fa quell'effetto, ingrandisce gli organi interni. Hai capito? Si, beh, un addome tremendo, esattamente come il petto. Continua, continua così.